buonasera a tutti io sono andremondorito89 e questa sera continueremo con Heather Knight pronto la sigla vai allora eravamo dentro il treno andiamo a parlare con Yuna stai pensando con la tua amica inciso o con la ragazza di non l'ina no e solo che pensavo se il mondo è finito se il mondo è finito se il mondo è finito non è finito allora noi Yuna abbiamo parlato partiamo con Shani non è finito va bene vedo che non stai bene l'amica non sa come mi senti è solo che in mente ti facevi male io sono rimasto al quartale eh avrei voluto far te fare qualcosa l'abbiamo fatto insieme l'abbiamo fatto insieme no è stato inutile eh carissimo abbannate a battere no c'è potere tu no ahahahah che gianno l'antico vuoi rivendiare il tuo suo su potere invincibile eh eh bello clicca certo no andiamo da Yuna di nuovo Non mi do bene? Rossi vale come rispondo, non mi è più che ho perduto. Bene, spero sia abbastanza. Vorrei che ci fosse qualcosa da fare su questo treno. Dovremmo parlare. Quindi cosa mangi di solito a colazione? Eh, questo è un bordello mangio. Caro drone dove sei? Dovremmo parlare! Dovremmo parlare! Dovremmo parlare! Bene. Pensavo che si è morto. Non mi ha fatto preoccupare. Ok. Chani ti va. Bene. Sì? Mostri? Mostri? Che è successo? Non me ne sono accorti. Però non me la dà. Ah, mi sto bene. Non mi... Nooo, sei diventato invidioso. Stai tutti bene? Sì. Forza Chani, andiamo. L'interno delle muole è strane. Perché non toccate niente? Sì. Oh, una caravella. Andiamo avanti. Allora, che è questo? Mostramento al rapido. Ci sono dei telefoni. Spazio nel lugio. Puoi salire per accedere al menu di viaggio rapido e spostarti in area che hai già visitato. È possibile risalvare i progressi in prossimità dei punti di viaggio rapido. Usa opzione 1 per accedere al soportaggio attraverso il menu principale. Gioco effetti soportaggio automatico. Trovare questo soportaggio in cima. Ok. Spostamento al rapido. Dentro di sto. Va bene. Ehi. Ehi. Ehi ma, vuoi u s***. Vuoi u s***. Vuoi u s***. Ehi. Ok. Wattaccia! Uspai! 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 Dove sei? Dove sei? Ottimo! Ah, devo stare qua dentro, ok Ottimo, buona la vedano danni, esiste erano i morti Si, attacca solo per la nata, neanche? Probabilmente, la rabele è su braccio, e la cosa più luminosa è qua Non è stato facile, Jenny S**t Allora, allora Usta! Ehi, piano Cos'è? Che cazzo Si! Ah, l'abbiamo fregato Questa? E' questo o' questo? E' questo o' questo? Eh, lo sapevo Un'altra buona Un'altra buona Un'altra buona Un'altra buona Ok, abbiamo aperto Un'altra buona Se invece ti ci butti subito È una nuova A me好了, ti faccio credere essere impossibile? E' una nuova Je ne vi prego E' un po' che non erano lì prima Per uscire di qui Ok Attiva Non ho capito Allora Mi sa che devo Sbagliato Ok Ora si E' fatta Draymond O sta di annodare i blocchi Jani Ancora Quando gli date un po' dei raccini per fuori Gli date un bel scudo E andiamo di qua Jani 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 Eee Eee Oh E' un po' di Teleported E' morta Oh Non mi ha fatto niente Mi ha fatto diventare più cazzo Cos'è? L'essenza nera Deve permettere di sbloccare le abilità della spada Succedimento E' possibile ottenere l'essenza nera Peccandola ne da un giorno O uccidendo mossi potenti E come si utilizza sta essenza nera? Non è qua Non c'è nel tarto Di qua che c'è Non c'è Potenziale di abilità Le abilità della labbra Della abilità Lo so bisogno Ok E' senza nera 5 Ehm Schiva Devi permettere di schivare E riprendere il tempo Corpo di grazia Ce ne vogliono 10 Spadone Perventi di spedare attacchi Perlati in grado di venerai Includi i nemici Allora Questo lo prendiamo Guardare il tutorial U E poi Un potente colpo di spada E ti puoi mettere I nemici E ti danni in charlie Allora premi Triangolo Ehm Vente Premi R1 Ok Bene Allora Se no facciamo così Bella Ai 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 Ma perché questo mombolino ne sopra? Ma che c'è un po' I miei beni fanno sanno uno sanno il nord Dai attento Dragon Ambere, Ambere Via Rottura delle barriere, veniva da l'elementare Aspetta 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 Non abbiamo altri posti, devo andare. Lei non ha distrutto. Parle delle mura siamo, ok. Uh, piano. Prima di seguire la scuola. Allora. 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 Grazie a tutti. 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 No riesco. No riesco. No. No riesco. No riesco. No. No riesco. 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 buona 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 Pura mea. Vieni. È morto. È morto. Vostro. È morto. È morto. È morto. È morto. È morto. È morto. Sono qui. Vieni. Ma come ha fatto? Ma vieni. Ma vieni. Oh, di tutto vi prego di chiamarmi l'area, non signora Tron. E' l'area. Adesso ti senti un po' tramezzato. Già. Già. Bene, sono qui si essere ancora tutti integri, almeno fisicamente. E' sincronizzato. La storia che erate? C'è una cosa mia. C'è un po' tramezzato. C'è un po' tramezzato. E' un po' tramezzato. E' un po' tramezzato, ma potrei rinunciare a un'altra parte. E' un po' tramezzato. E' un po' tramezzato. E' un po' tramezzato. E' un po' tramezzato. E' un po' tramezzo. Di certo, abbiamo provato qualche passaggio in ogni modo, ma fortunatamente non abbiamo avuto successo. Questa ora abbiamo qualche passaggio in quanto tre domani, ma le altre non fanno passare. allora riposate immagino una restia già vendendo domani sia domani chissà e se ci rendiamo qualcosa da bere niente chiamo da giugno qual è la sostanza ora? questa è la mia andiamo da giugno una prima ehi Yuna ti va di parlare? chi sei? non ci tolgo non ci tolgo e è Sì, stai giocando un po' di più.